Come accennavo prima, ci sono stati due o tre episodi della batteria, diciamo degli interventi miei con Pino che hanno fatto poi la storia, molti ancora non riescono a capire l'intro della Me Mi Piace il Blues o l'assistire in trentaduesimo di Show Live su... che vedete o i gruppi di cinque già che usavo in Sto vicino a te negli stacchi finali, beh oggi volevo con calma, non so se riuscirò didatticamente a farvi capire diciamo queste due cose, proverò a regalarvi questi due o tre interventi. Allora l'intro di Me Mi Piace il Blues si basa su anticipi di sedicesimi che devo dire l'italiano è molto pigro e abituato a tarantellare e a suonare e imbattere e esprime con grande fatica, l'anticipo di sedicesimo non sta nell'italiano quanto sta al latino, al latino no, al latino è greco, al latino no, quindi è tutto fatto... Allora i famosi sedicesimi della mano sinistra sono sedicesimi ignorati dall'80% dei batteristi italiani. Per cui... Questa diciamo è la spiegazione didattica... che è la traduzione diciamo... diciamo in batteria... E questo era il groove... Grazie. 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 Grazie.